chi si rifà una cura ai ricostituenti? che ti vuoi fare una cura ricostituente? guarda questo non puoi fare cosa guarda che legge tira tira ora che devi fare? zitta po eh zitta come gira? gira faccela pure non ti basta senti una cosa io ho visto una cosa questa è un'area archeologica che è un'area? archeologica ecco sta io sotto i romani, i greci, gli egiziani io sotto ecco? ecco mi puoi su e dammi una mano no io perchè mi sembra di fare un problema ma sei morto è pure morto ci credi? stava sotto youtube guarda questo 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 ti fa male a queste canne e tu dove impianti? ma se tu ti fa male i canne chi ci trova se viene no? ma no no io li sono preparati per me ci si fa male si ma li li preparate oh 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 e li preparate per tutto per nessuna no? e io lo faccio va fuori ci taglia fuori allora rulla rulla di qua rulla non stai sei un po' geni tu stai nello con troppo forte asseminato per favore questa è aria lungobarda che è? aria di chi? guarda che questa è tutta te la roba ti faccio vedere i contratti stasi preliminari tec ma sta scritta ecco e no che sei fazza questa carta non ti chiamo molto ma ti faccio prendere tutte le altre acquiste che si chiamava tutta roba mia tutta roba mia tutta roba mia ma io dico prima si ma prima prima era del papo eh ma prima era del nonno si ma prima era del bisnonno ma ero lungobardo no? eh si era del... ho visto che ero di lungobarda allora si chiama lungobardo uigino eh lo sacco ma la soluzione i sacci devono più andare per madonna ho ancora ma perchè metti all'anno sedere e cuciti questa sedere e li mettono negli da pastiglie eh questa è una buona eh non voglio studiare eh cucito che fatta un po' la radioelettra mi schicca attenzamente c'ho capito cucito congima pure senza che ci armi metti in mano si perchè c'è con la ecco sotto la casa prendete qua metti da sedere fino a quando c'è stato buco che non mangia metti da sedere metti da sedere la 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 vuoi cacciare? no ti vuoi metti là se ti metti e ti metti le palle no? hai visto che non capisci un cazzo perchè non vogliamo fare una partita a casa? no ecco dovremmo risolvere che chi ci fa più arreggio tubo? beh io ne faccio più male no però secondo me un tubo ecco a terra non è la sua e questo gli fa nulla ma se non è buona cosa perchè io non ne posso più ne tengo si e già e questo questo lo fa ma perchè tutto non ti è nato tubo? c'è tuto tubo te che c'è non me lo fa di guardare tutto youtube secondo te insieme perchè arriva tutta questa acqua nascolo youtube youtube una volta youtube vive allora ma noi che facciamo? io su youtube eh eh non ho capito ma su youtube e prenderemo la soluzione non sta youtube e come sta youtube? youtube io lo ho un muter ci sta un sito apposta ma quando eravremo? non eravremo più no? ma che c'è? ho un computer e sto capito ma mica uti ecco no? ma come no? non ho capito io no? no youtube è un sito dentro youtube qui è un sito che parla di tubo è un sito che parla di tubo è un sito eccetera è una comunità virtuale è una comunità virtuale capite? si ti dite che non va bene usite allora ma questo è un sito che fai o questo? ooooh si facciamo una cosa si dai mi faccio più errato oh oh vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua mettete i ditte che non stava perdita fanno scaricare qui che si è arrabbita e che tocca a me a fare questo? e vabbè chi tocca a farelo? che ti sa? c'è chi ha mettere una ditta che fa e ci sta è un genio eh questo guarda con voi gli fa un fumo guarda 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 fende un po' oddio 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 e se noi mettiamo un utile allora ti metti in questo t no? a porca canapina tu tutti tu? eh ma io ti capisco una cosa no? eh questo è un utile no? esatto ma la cosa così no? ma che ci no qua dove passa? fammi capire ma che ci io devo capire come funziona se ci metti una canna una cellulare non passa se ci metti un utile di plastica la cosa può influirci dentro ma l'acqua dove passa? d'acqua 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 se tu l'acqua la fai passare è che si ferma no? si ferma no? no 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 c'è una dilamazione l'acqua come arriva l'acqua che tutti questi gocciolini non arriva l'acqua d'acqua 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 a sinistra d'acqua a sinistra e non va a destra e non va a sinistra chi distruve boom al centro quindi la destra è che forte no questo non è l'acqua questo non è l'acqua questo ogni tanto da fare una uccetta allora sbrichetevi a trovare un zio doppio boom 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 allora ora da fare una uccetta tutti quanti ma io posso fare una telefonata? dai posso ma lascia aperte lascia aperte perchè ora devo fare questa telefonata credi? ma non è la però ma non è la però chissà c'è la persona che c'è ho messo ogni modo perchè lo metto là? ma tu devi fare la doccia ma come voglio fare la doccia se chi stia una volta penne da qua una volta penne da là e che vabbè ma tu stai a 10 metri la qua arriva no chi chiede? è la teoria dei casi comunicanti eh eh e fammi capire allora i casi comunicanti chiedi? fammi un piacere mio fammi un po' allora questo è un fiume questo è un fiume eh questo è un fiume che tu fai? tu fai pronto? pronto chi è? e tu i ladri comunica no? si sta attendo non facci quello che sta qua dentro perchè sennò pronto ti parla come stai? bene ecco diciamo comunicando quindi sono i vasi comunicanti vabbè ma che ci vuole non c'è che vuole per capire questo dai ma che c'è? io so studiato che c'è? che c'è? che c'è? che c'è? che c'è? più non fai tu vengono facendo un'altra cosa vengono facendo un'altra cosa vengono facendo un'altra cosa ma mi fa fare come chi? vengono le manbocciate vengono le manbocciate oh che fai? non ci c'è? tre maia? che pesasse? anche qua su attallacati non cresci mai che succede? allora oggi è domenica e chi si mangia? non dici e uno no metti qua dai oh aspetta te ma che aspetta che aspetta ma si sa che chi è peggiata oh vengono le mani e poi dai Com'è? Non so mai sto capito? dai mangiano piccino mi venite, 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 appa appa, appa voi v ride, dai, dai, dai non so quello lato, no, 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 no a no, dai, dai, dai mica ce può mettere in questo dio tu sai che ogni 5 minuti che stai in antenne al tuo, capite? ogni 5 minuti 5 minuti che manchi tu in strada 10.000 perso a Shanghai ah no.... anche infatti perchè sto tu in riva fine in Cina c'è andato a Cina ah se tu stai là i cinesi stai la tutto alto i cinesi allora... hai cambiato il rosante duchè allora hai bagnato hai bagnato pure io hai bagnato io ho visto che ci si inglassa proprio ti hanno dato troppo bene bomba un cazzo tutto un dì allora dai, per metterlo sotto al mudo si sciopero non sciopero, fanno un po' sciopero o no che velocità c'è per metterlo in mudo per chi tenga paura che questa messa ha un'atmosfera e mi fanno scritto e mi arriva fino alla profettura secondo me do tre però se ne vuoi essere se si sposta no perchè il problema è che quando se ne va spolizzate la parte capite? una reazione particolare si ma può sbregare però e che gua guarda e mi chiedeva qui qui ci sta a peggare l'aria ma ci mi stai mettendo una cucina ah ci mi sa pagare anche perchè oggi è carnevale capite? devo dire carnevale allora questo dovrebbe andare... eh, oggi è il carnevalo il carnevalo? ma non lo vede 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 eh, se tu ci hai visto che il carnevalo io andi brava, dove vamo? eh, trovi pure tu? con me è il carnevalo